Ciao a tutti, come state? Oggi nuovo video svuota la spesa a Tigotà. Sono stata da Tigotà principalmente per comprare i pannolini che erano in offerta, ma poi comunque in casa c'è sempre bisogno di qualcosa, quindi qualcos'altro è rimasto attaccato alle mani. Allora abbiamo comprato questo mega pacco sporta di Pampers Baby Dry numero 5 che sono 11-25 kg e sono 88 pannolini, li ho già messi via, ho tenuto giù sul cartone per fare la foto, per fare il video ma li ho già sistemati nell'armadio. Poi come tutte le volte quando vado da Tigotà ho comprato la carta da cucina, quindi lo scottex e la carta igienica, i pannolini erano in offerta a 17,50 euro, comunque un buon prezzo per essere i baby dry. Ho comprato della carta calla, sia lo scottex, la carta cucina, questi due rotoli, a 1,75 euro, sia la carta igienica, 4 rotoli, 3 veli e 1,59 euro. Erano quelli che comunque avevano il miglior prezzo e quindi ho preso questi due, poi ho comprato scorta anche di fazzoletti, questi della Foxy che erano in offerta a 99 centesimi. Ho preso quelli che costavano meno appunto in offerta, poi per fare un pochettino di scorta ho preso due pacchetti di salviette imbevute, queste della Sorbello che compro spesso, nel reparto delle salviette erano quelle che costavano di meno e sono 64 euro, le ho pagate 1 euro e 65 euro. E queste qui sono con aloe, vitamina E e camomilla. Mi piacciono, non sono male, però costano meno e sono anche meno, perché il pacco sembra tanto grande, ma non sono 72, sono 64 euro. E poi in un cestone, quindi non vicino al reparto dove ci sono tutte le salviette delle varie marche, ho trovato queste qua, che sono sempre 64, marca non ve lo saprei dire, ciao abracadabra c'è scritto qua. Sono sempre 64 e queste costavano 1 euro e 50 e quindi ho preso su anche queste. Questa qui dice con camomilla, olio di cotone e aloe vera, senza profumo e senza alcol. Proveremo, mai neanche viste sinceramente, quindi vedremo. Poi mia mamma ha preso, ma ve lo faccio vedere lo stesso perché era nella spesa, insomma siamo andati insieme, ha preso il general, questo qua, dei colorati. Lei compra sempre questo, si trova molto bene. Ha cambiato la bottiglia, perché prima era bianca, adesso è azzurra, ma l'etichetta è rimasta la stessa. Questa è per i colorati, quella blu è per i bianchi, insomma per gli altri tipi di bucato, quindi questo è un detersivo per la lavatrice. Qui dice 5 in 1, azione sciogli macchia, è efficace già a 30 gradi, fa brillare i colori senza separarli e ha la freschezza di lavanda. Sentiamo, mi ricordo che ha un profumo buonissimo questo detersivo, infatti, sì, di lavanda ma molto buono, mi piace, piace molto anche a me, lei usa spesso questo. Questo è un'offerta a 2,29 euro ed è il flacone da 32 lavaggi, un buon prezzo. Poi, sempre lei ha voluto prendere questo Dimension, che è shampoo per balsamo, quindi 2 in 1, efficace per tutti i tipi di capelli, e 99 centesimi. Lei si trova bene e mi è capitato di utilizzarlo anche a me, quando, come lei lo compra, lo lascia qua a volte, e è un buon prodotto, economico e buono. Poi, ho preso per l'Ilenia, la mia bimba grande, il suo dentifricio, quello della Chicco, il suo dentifricio, quello della Chicco, alla fragola, 1-5 anni, lei si trova bene con questo. Era anche in offerta, l'ho comprato perché l'ha finito, era in offerta a 1,88 euro, 1,88 euro, e questo fracone è da 50 ml, è piccolino, però lei utilizza questo per lavarsi i denti, piuttosto che preferisco ricomprarvelo. Della Chicco c'era anche al gusto menta dolce, banana e ananas, mi sembra, tutti in offerta. Poi, in offerta, ma che comunque mi serviva, quindi avrei comprato lo stesso, il deodorante, l'ho ricomprato, questo della Infasil verde, freschezza, dinamica, mi piace molto, ci piace molto, lo utilizza anche mio marito, ha una buonissima profumazione, e anche se sudate non vi fa puzzare, era in offerta a 2,19 euro, all'iper mi capita di trovarlo anche in offerta a 1,99 euro, però mi serviva e quindi l'ho comprato. Adesso ho in utilizzo e sto finendo quello con il packaging grigio, neutro mi sembra, che è buono, ha fatto bene il suo lavoro, ma questo è più buono. Anche lui in offerta a 0,99 centesimi, un detergente intimo, questo della Fresh & Clean extra fresco, con aloe vera e salvia, non è la prima volta che lo compro, l'ho comprato almeno altre 3-4 volte, mi piace molto, ci piace molto, ha una buona profumazione, era in offerta a 0,99 centesimi, ho l'ultimo in utilizzo e quindi l'ho ricomprato. Ci mancava l'allarme, poi della colgate ho comprato questo, non ne avevo bisogno perché forse avevo qualcosa ancora in scorta, ma era in offerta a 0,83 centesimi, e quindi l'ho preso, questo è il tripla azione, protezione cari, denti bianchi, alito fresco, mi trovo bene con quelli della colgate, sono i miei dentifrici preferiti in generale, e quindi l'ho preso volentieri, anche se forse avevo ancora uno in scorta, ma va bene. Poi, onestamente per sfizio ho preso queste cose, un sapore mani, questo qua è della Glicemil, qui c'è sapone crema, idratante protettivo, con bio camomilla e probiotico, con urea glicerina e olio di mandorla, 99 centesimi, 300 ml, e, dicevo, questo sapone mani qua è della Glicemil, e l'ho preso, come dicevo, un po' più per sfizio che per bisogno, perché ne ho altri due scorta, quindi comunque avrei potuto aspettare tranquillamente un mesetto, buona, profumazione dolcina, e mi ha ricordato molto quelli di Nidra, come packaging, secondo me è lo stesso come packaging, quelli lì come saponi, non li ho mai comprati, o forse una volta, però li ho provati, insomma, mia mamma, comunque è capitato che chi lo provasse mi è piaciuto molto, questa era un'offerta 99 centesimi, anche questo in un cestone, e l'ho voluto prendere, adesso tanto lo metterò in utilizzo a breve, perché a me piacciono che hanno il packaging più piccolino, sinceramente, che quei boccioni da un litro che non finiscono più, poi, ho voluto prendere questo della svelto, che comunque è, possiamo dire, una novità, il power spray universale scioglie rapidamente il grasso ostinato per piatti di superfici, e quindi appunto è un detersivo piatti con lo spruzzino, da utilizzare magari sulle padelle o sul piano cottura, era in offerta 1,99 euro, sono 435 ml, insomma, un po' una quantità strana, qui dice appunto che è per piatti, padelle, stoviglie, piano cottura, lavelle, piastrelle, quindi ideale per tutta la cucina, secondo me, spruzza, scioglie e sciacqua, e sono curiosa, sono curiosa di utilizzarlo, è un prodotto che mi incuriosisce, profumazione non ve la saprei dire, vediamo se riesco ad aprirlo, intanto lo metterò in utilizzo a breve, non capisco, se dita così non è che mi faccia impattire la profumazione, però vedremo se il prodotto in sé è un prodotto valido, e poi, in ultimo, oh yeah, fastidio, in ultimo ho preso un shampoo balsamo, di cui onestamente non avevo bisogno, ma li avevo visti anche su Amazon, non vi so dire se è una novità, però ho sentito la profumazione, è buonissima, era in offerta, ed è questa profumazione qua, questa nuova linea, per me è nuova, vitamina e forza, alla vitamina C, no, arancia rossa, quindi vitamina C più biotina, qui c'è per capelli 10 volte più forti, questo non saprei dire, i packaging hanno plastica riciclata al 100%, con arancia rossa, e qui dice che lo shampoo è fortificante per capelli fragili, soggetti a caduta, non è il mio caso, in generale, forse magari nel periodo delle foglie, anche io comunque perdo più capelli, come tutti, e questa cosa dice il balsamo, sono 250 ml lo shampoo e 200 il balsamo, e sinceramente non vedo l'ora di metterli in utilizzo, era in offerta tutta la linea, e questi prodotti li ho pagati 1,99 euro l'uno, e amo la profumazione buonissima, di succo, di succo di frutta, buonissima, buonissima, vado l'ora di metterli in utilizzo, sono molto molto curiosa, e la profumazione di questo, sentita così, mi ha un po' deluso sinceramente, adesso vedremo un po' l'utilizzo, e niente, quindi questa è la mia spesa di settembre, da Tigotà, e questo è il volantino, che c'è adesso, che ho voluto prendere lo stesso su, per sfogliarlo un po', sono tutti i detergenti della Winnis in offerta, ci sono delle buone offerte, devo essere sincera, questo mese ci sono delle buone offerte, la mia è stata una spesa più che altro di necessità, togliendo questi tre sfizzi, e va bene così, insomma, adesso ho un bel po' di punti accumulati, vediamo se con i punti riesco a fare qualcosa, ho quasi 400 punti, che non sono pochi insomma, e basta, fatemi sapere se avete comprato qualcuno di questi prodotti, anche voi, o avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati, vi aspetto nei commenti, se vi va, iscrivetevi al canale, a me farebbe molto piacere, e un bacio, alla prossima, ciao!